Presentiamo subito i nostri ospiti, questa mattina con noi Vittoria Baldino, vice capogruppo alla Camera del Movimento 5 Stelle. Benvenuta. E poi Cecilia Primerano, collega della redazione politica del TG1, e Alessandro Speciale di Bloomberg. Benvenuti. E come di consueto noi vogliamo introdurre i nostri ospiti con una breve biografia che pesca tra il pubblico e il privato. Per andare a conoscere meglio, Vittoria Baldino, alla seconda legislatura, 34 anni, deputata e vice capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera. Nata a Rossano, in provincia di Cosenza, cresce in Calabria, a Paludi, uno dei tanti comuni della provincia italiana, con i fratelli, la mamma Tina e il papà Mimmo. È durante gli anni dell'Università a Roma, facoltà di giurisprudenza, che si avvicina alla politica, incoraggiata, dice, dallo studio del diritto e soprattutto dai due fratelli, Giovanni e Silvio Grillini, della prima ora. Studia, si laurea, diventa avvocato e inizia a partecipare alla vita del Movimento 5 Stelle nel quarto municipio di Roma. Esercita, in uno studio legale, lavora per un periodo anche come consulente dell'amministrazione comunale durante il mandato di Virginia Raggi. Poi, nel 2018, decide di candidarsi alle parlamentarie. A Proda così a Montecitorio, nel 2022 si ripresenta e la base 5 Stelle la riconferma per la corsa alle politiche e lei torna così alla Camera per il suo secondo mandato. Sposata con Francesco e mamma di Gaetano, hanno anche un cagnolino. Tifosissima della Juventus e soprattutto del capitano, Alessandro Del Piero. Ormai, romana deduzione, torna appena possibile a casa sua a Paludi, dove il papà ha anche fatto il sindaco, inseguendo la passione per la politica condivisa coi figli. Per ora ha solo messo da parte il sogno della scuola di ballo, da aprire col suo diploma di insegnante di danza classica. Scopriamo delle sorprese. Allora, Vittorio Baldino, iniziamo il nostro giro di domande. Iniziamo da Alessandro Speciale. Bloomberg, vogliamo iniziare? Sì, buongiorno, buongiorno. Sono molto curioso sulla posizione dei 5 Stelle sul presidenzialismo. Si parla molto di riforme, si parla di presidenzialismo. Mi sembra di capire che i 5 Stelle non siano molto favorevoli. Allora vorrei sapere qual è la posizione dei 5 Stelle, qual è il modello che loro hanno in mente per rafforzare l'esecutivo, che mi sembra un'esigenza che c'è in Italia. Assolutamente. Noi crediamo che per rafforzare l'esecutivo, ma anche per rafforzare il Parlamento, per rendere le nostre istituzioni più efficienti, perché di questo si tratta, non sia necessario stravolgere la nostra forma di governo. Ma sarebbe anche sufficiente prevedere delle riforme, come ad esempio l'Istituto della sfiducia costruttiva, sul modello tedesco ad esempio, come succede in Germania. Ossia per sfiduciare un governo è necessario che le forze politiche abbiano già un'alternativa, cioè abbiano già un altro esecutivo sul quale concentrare la propria fiducia, in modo tale che si evitano le crisi al buio e si evita l'instabilità che ormai conosciamo benissimo nel nostro Paese, che purtroppo determina anche una scarsa forza a livello internazionale. Perché noi vediamo nei consessi internazionali leader che, insomma, sono leader navigati, che si ritrovano lì, penso alla Merkel, penso al Macron, adesso la Merkel dopo la sua veneranda carriera ha deciso giustamente di andare in pensione, però tutti i leader europei comunque hanno una storia anche all'interno dei consessi europei. Invece noi siamo abituati a presidenti del Consiglio, esecutivi che durano un anno, un anno e mezzo. Quindi questo purtroppo determina una scarsa forza del nostro Paese nei consessi internazionali. Per questo noi ce l'abbiamo la proposta, è proprio quella della sfiducia costruttiva. Però dall'altra parte bisogna anche rafforzare l'organo legislativo che è rappresentativo della volontà popolare, che è il Parlamento. Abbiamo visto anche con questo governo già sono state 5 le fiducia poste e 15 decreti posti all'attenzione del Parlamento. Di fatto il Parlamento non legifera più, quindi bisogna intervenire anche per limitare la decretazione d'urgenza e dall'altra parte anche dare maggiore voce ai cittadini con lo strumento, come quello del referendum propositivo, che va proprio in questo senso. Cecilia. La notizia che sta sui giornali stamattina è il caso cospito. C'è stato il Consiglio dei Ministri ieri, il governo dice non ci faremo intimidire. Il dibattito politico ruota intorno al 41 bis, allora le chiedo come si può conciliare l'affermazione del Stato di diritto con la tutela della salute del detenuto. Il bilanciamento di questi due interessi è già stato fatto nel momento in cui il legislatore ha introdotto il carcere duro e il 41 bis. E in questo caso lo Stato e il legislatore ha ritenuto prevalente e preeminente l'interesse dello Stato affinché quando si tratta di condannati per reati gravi o gravissimi come il caso del 41 bis, mafia, terrorismo e altri sia necessario interrompere la collaborazione, il collegamento tra il detenuto e le organizzazioni di appartenenza. E questo è il senso del 41 bis. E quindi questo bilanciamento è già stato fatto dal legislatore. Evidente però che anche nei regimi più duri come quelli del 41 bis, come quello del 4 bis, è necessario comunque garantire la dignità, il senso d'umanità anche della pena come prevede la nostra Costituzione. Ricordiamo che tra l'altro questa mattina alle 11 ci sarà una conferenza stampa alla presidenza del Consiglio proprio con i ministri Piantedosi, Nordio e Tajani a seguire del Consiglio dei Ministri ieri sera di cui parlava Cecilia Primerano. Dunque Baldino io vorrei chiederle delle autonomie differenziate, altro tema di cui si dibatte parecchio in questi giorni. Sappiamo che la Lega preme per un'accelerazione, insomma per presentare il prima possibile il disegno di legge del ministro Calderoli, però ci sono dei timori, peraltro anche all'interno della stessa maggioranza. Forse Italia ad esempio ha espresso più volte cautela, messo in guardia dal rischio che questa riforma possa aumentare il divario tra il Nord e il Sud. Voi come 5 Stelle siete totalmente contrari a questa riforma o si può procedere in qualche modo? Avete una proposta per evitare questo rischio? Allora guardi mi lasci dire che le posizioni espresse in questi giorni dal governo di timore nei confronti di questa manovra mi sembrano un po' una trovata diciamo di propaganda perché di fatto un primo passo verso l'autonomia differenziata è già stato fatto nella legge di bilancio, legge di bilancio uscita dal Consiglio dei Ministri dove si prevede che ad esempio i LEP verranno definiti con un DPCM, cioè il famoso DPCM contro il quale si scagliò la Presidente attuale, Presidente Melo, nei tempi del Covid adesso attraverso il DPCM definirebbero loro i LEP, cioè i livelli essenziali delle prestazioni che determinano proprio il livello in cui i diritti sociali e i diritti civili devono essere garantiti su tutto il territorio dello Stato. Noi siamo preoccupatissimi per questa riforma, se non altro principalmente perché rievoca il principio della spesa storica. Che cos'è la spesa storica? Che cosa significa? Significa che le regioni che hanno avuto di più negli ultimi anni continueranno ad avere di più e le regioni che hanno avuto di meno continueranno ad avere di meno. Purtroppo noi viaggiamo in un paese a due velocità. Da una parte le regioni del nord che corrono e neanche tanto, poi abbiamo visto rispetto agli altri paesi europei e le regioni del sud che stanno praticamente al palo. E il paese non arriverà mai ai livelli degli altri paesi europei se il sud non comincerà, non dico a correre ma quantomeno a camminare. E con questa riforma purtroppo i diritti sociali e civili rimarranno fermi al palo. Questo vuol dire che il sud non correrà mai. Altro tema di cui si discute molto in queste settimane è il MES, il meccanismo europeo di stabilità che ricordiamo era stato al centro delle trattative del governo Conte 1, era stato approvato davanti al governo Conte 2, adesso va ratificato e l'Italia è uno dei pochi paesi, l'unico paese tra i fondatori a non averlo ratificato. Sappiamo della contrarietà della Premier Meloni, anche il Presidente del Consiglio Conte all'epoca aveva sempre rifiutato l'idea di poterlo attivare. Allora io le chiedo, questo MES così com'è va ratificato comunque oppure come dice il governo, come dice la maggioranza su questo tema si sta trattando, andrebbe ratificato e poi modificato? Qual è la vostra posizione? Il Parlamento e la maggioranza ratificheranno questo trattato, quindi questa sarà l'ennesima retromarcia della Meloni che ne abbiamo viste tanti in questi primi cento giorni. In Parlamento non lo ratificherete? Allora, guardi, il Presidente Conte, nel mentre che la Meloni urlava all'alto tradimento del Presidente Conte che avrebbe, secondo la Presidente Meloni, nottetempo attivato il MES, cosa assolutamente falsa, infatti si vede, non l'abbiamo ancora ratificato, ha cercato di migliorare il meccanismo in Europa e ci è riuscito, ha raggiunto anche degli ottimi risultati. Quindi il tema adesso è il governo, la maggioranza, che cosa vogliono fare? Perché adesso si devono assumere le proprie responsabilità, non possono rimbalzare la palla al Parlamento. La Meloni in Europa sta sostenendo una posizione totalmente appiattita sulle posizioni del Presidente Draghi, contrariamente a quanto aveva detto in campagna elettorale. Adesso stiamo a vedere che cosa farà la maggioranza, perché è il momento che si assuma le responsabilità di fronte all'Europa. Ricominciamo, un nuovo giro di domande. Cecilia, portiamo da te. Allora, io vorrei portarla sulle elezioni regionali, perché il 12 e 13 di febbraio si vota in Lazio e Lombardia. Il Movimento 5 Stelle nel Lazio ha deciso la corsa solitaria con Donatella Bianchi, quindi il campo largo non esiste nel Lazio, con il PD. In Lombardia invece ha fatto una scelta opposta. Allora, non temete comunque nel Lazio di agevolare in questa maniera, con questa corsa solitaria sulla Bianchi, la destra? E soprattutto non c'è una contraddizione con questa divisione nel Lazio e Lombardia sulla vostra strategia politica? Allora, guardi, nel Lazio il PD sostiene il candidato D'Amato insieme al cosiddetto terzo polo. Io vorrei porre alla sua attenzione un tema. Proprio nella giornata di ieri, nella regione Calabria, due consiglieri regionali che sostengono il governo di centrodestra sono passati in azione. Quindi, praticamente, noi abbiamo una forza politica che sostiene D'Amato nella regione Lazio insieme al PD che in Calabria invece sostiene un presidente del centrodestra. A me la contraddizione sembra proprio questa, non sembra la nostra. Ma abbiamo fatto una scelta coerente perché abbiamo ritenuto che in Lombardia ci fossero le condizioni per un programma, una piattaforma programmatica credibile per i cittadini lombardi insieme al PD e al candidato Maiorino. Azione ha fatto una scelta diversa perché sostiene Azione Italia Viva, sostengono la Moratti. Nel Lazio, evidentemente, queste condizioni non ci sono. Esempio tra tutti, il caso Sbelli, un po' anche della fine del governo Draghi, fu l'inceneritore di Roma. Mentre Zingaretti fece un piano regionale di rifiuti dove scriveva nero su bianco che non si sarebbero fatti più inceneritori, successivamente il sindaco di Roma ha fatto il governo, hanno fatto una scelta diversa. Abbiamo chiesto a D'Amato cosa vuoi fare? Non abbiamo avuto garanzia in questo senso e quindi abbiamo deciso coerentemente di fare una scelta diversa. Diamo una notizia che è stata battuta pochi istanti fa dalle agenzie perché è in volo il volo Airbus a 350 di Ita Airways in cui il Papa ha iniziato il suo viaggio apostolico verso il Congo, verso la capitale Kinshasa. Queste sono le prime immagini che ci arrivano della partenza del Pontefice. Ricordiamo che l'arrivo è previsto all'aeroporto internazionale di Kinshasa per le 15 locali che dopo la tappa in Congo il viaggio apostolico proseguirà per il sud Sudan. Abbiamo detto, rimarcato più volte quanto il Papa si era speso in passato per il processo di pacificazione di questo paese che era in corso in anni di guerra fratricida. Eh sì, uno dei viaggi a cui il Papa tiene di più, lo racconteremo. Ricominciamo con le domande di politica, Alessandro. Sì, io volevo tornare a guardare allo scenario internazionale, parlare in particolare di Ucraina, la posizione del Movimento 5 Stelle è nota e contraria all'invio di altre armi all'Ucraina, ma la mia domanda è allora qual è l'idea del Movimento 5 Stelle? Perché chiaramente Putin non ha nessuna intenzione di negoziare, continua ad attaccare, continua a ridurre oltre tutti gli spazi di democrazia. Ci sono milioni di persone nei territori occupati da parte della Russia sotto il regime russo. Che senso ha parlare di negoziati in questo scenario e se no qual è l'alternativa per ridare libertà al popolo ucraino che resiste? Guardi, noi riteniamo che ormai è sotto gli occhi di tutti che questa strategia occidentale di fatto abbia fallito perché tra poco ce l'abbiamo un anno dall'invasione della Russia e di fatto noi abbiamo assistito a un'escalation militare. Che cosa significa? Noi siamo partiti il primo marzo a votare un decreto che ha autorizzato l'invio di giubbotti antiproiettili e munizioni, cioè siamo partiti dall'invio di munizioni e giubbotti antiproiettili, siamo passati all'invio di armi difensive, poi all'invio di carri armati. Adesso addirittura il presidente Zelensky chiede di mandare gli F-16, cioè degli aerei. Diciamo che è anche sentire comune, dire che ormai lo squilibrio non è più sul tema delle armi ma sul tema degli uomini. Allora dove arriveremo a mandare anche i nostri soldati, le nostre truppe in Ucraina? Quello che noi ci chiediamo, e credo che sia una domanda legittima, anche perché siamo in buona compagnia e penso che siano domande che si stanno ponendo anche in Germania piuttosto che in Croazia, senza contare che i nostri cittadini ce lo chiedono, visto che il 5 novembre decine di migliaia di persone sono scese in piazza, è dove stiamo andando? Qual è il limite entro cui l'Italia, l'Europa, l'Occidente, la Nato si possono spingere nell'ingresso di fatto in questo conflitto? L'Italia sta entrando in guerra oppure no? E questa è la domanda che noi stiamo ponendo al governo e vorremmo che il governo ponesse agli alleati, perché la nostra preoccupazione è sempre più condivisa sullo scenario internazionale, quindi evidentemente non siamo isolati e il dubbio forse è legittimo. Senta, sui migranti, ieri la Presidente del Consiglio Meloni ha incontrato il Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel e ha ribadito la necessità di soluzioni europee per una questione, la gestione dei flussi migratori che è europea. I 5 Stelle condividono le prime mosse del governo in questi primi 100 giorni in materia di immigrazione, l'idea ad esempio di un piano Mattei per l'Africa? Ma io non credo che il piano Mattei proposto dalla Presidente del Consiglio possa risolvere la questione dei flussi migratori. Rispetto alle prime mosse di questo governo abbiamo visto l'ennesimo decreto sulle ONG, l'ennesimo cosiddetto decreto sicurezza, che è ancora una volta fumò negli occhi nei confronti dei cittadini, perché noi sappiamo che la gran parte degli arrivi, degli approdi non arriva con le navi delle ONG, ma arriva con imbarcazioni di fortuna. Sicuramente il tema va gestito a livello europeo, abbiamo visto che i dati sono impietosi nei confronti del governo Meloni, perché nei primi mesi, il primo mese, gli sbarchi rispetto agli anni precedenti sono decuplicati. Questo che cosa ci dice? Ci dice che la questione dell'immigrazione non si risolve né con gli slogan, il blocco navale, che poi abbiamo visto che è impraticabile, se ne accorta anche la Meloni, né con i decreti, perché non lo si fa, i decreti di sicurezza non hanno funzionato e non funzionerà nemmeno questo decreto sulle ONG, che anzi peggiorerà la situazione, ma si fa portando in Europa delle proposte concrete. E io a questo proposito consiglio alla Presidente Meloni di approfittare della sua amicizia con i paesi più riottosi ad addivenire ad una soluzione di distribuzione automatica dei migranti che arrivano, che sono i suoi alleati, e quindi approfittare di questa sua influenza per arrivare finalmente ad una soluzione europea. Nelle ultime ore la Presidente del Consiglio è intervenuta anche su un altro tema inerente alla giustizia, vale a dire la riforma dell'abuso d'ufficio. Coinvolge in particolar modo i sindaci che spesso si trovano a dover firmare atti, e poi partono delle indagini, l'accusa è che queste indagini poi non portano a niente, però in molti casi invece si dice che il reato di abuso di ufficio è un reato spia che serve per poter evidenziare, far emergere altri reati. Su questo fronte la politica si interroga, qual è la vostra posizione? Guardi, il tema ce lo siamo posto anche noi, proprio per dare sostegno ai nostri sindaci, l'avete detto mio padre è stato sindaco, abbiamo avuto sindaci importanti, noi come Movimento 5 Stelle, Chiara Appendino, Virginia Raggi, e infatti nel corso del Governo Conte siamo intervenuti sul reato di abuso d'ufficio, definendone maggiormente i contorni, proprio per evitare che questo reato, che per noi è un reato comunque importante, si rivelasse un cappio al collo degli amministratori pubblici. Quello che chiedono i sindaci però, mi permetto, ho letto anche un'intervista del presidente De Caro, del sindaco De Caro stamattina, e l'abrogazione della legge Severino collegata all'abuso d'ufficio. Noi diciamo questo, allora, valutiamo che cosa succede dalla applicazione della nuova norma sull'abuso d'ufficio, così come è stata modificata dal Governo Conte, valutiamo la fase applicativa, dopodiché decidiamo se il caso di intervenire nuovamente, ancora è prematuro dire che quella riforma non ha funzionato, a nostro avviso, siccome siamo intervenuti, non interveniamo nuovamente, e attenzione a modificare la Severino, perché c'è anche un tema di etica pubblica, che è sempre più sentito nella percezione, c'è una grande percezione di corruzione, anche la sola percezione di corruzione nell'opinione pubblica, nei confronti della politica e delle istituzioni, è un dato, un campanello d'allarme. Come diceva lei, il reato d'abuso d'ufficio e i reati di corruzione sono reati spia della presenza della criminalità organizzata, quindi io direi, valutiamo l'applicazione, poi decidiamo, ma attenzione a depotenziare questi strumenti. Abbiamo tempo per due brevi domande con risposte nette, perché abbiamo poco meno di tre minuti. Alessandro. Tornando all'incontro di Meloni con Charles Michel ieri, si è parlato naturalmente di politica industriale europea, cioè una parte della Germania che parla soprattutto di rilassare, alleggerire le norme sull'aiuto di Stato, che funziona per i paesi che hanno ampie risorse fiscali, i paesi come la Germania, i paesi come l'Italia invece chiedono fondi a livello europeo. Qual è la proposta del Movimento 5 Stelle e come voterà in Europa di fronte alla proposta della Commissione che è stata fatta ieri? Allora, guardi, noi crediamo che di fronte a problemi strutturali dell'economia europea servono delle risposte strutturali, tant'è vero che, diciamo, l'esempio che a nostro avviso deve essere poi coltivato è stato proprio quello del PNRR. Non so se ricordate, all'inizio, durante la pandemia, ci dicevano che l'unica soluzione sarebbe stata il MES, che noi non abbiamo mai ritenuto di attivare, anche il MES sanitario, che a nostro avviso non serve, perché riguarda soltanto gli investimenti già pianificati, non i nuovi investimenti che sono quelli che servono, ad esempio, alla sanità nel nostro sistema sanitario. Ecco, da questo punto di vista, noi proponiamo alla Presidente Meloni un maggiore coraggio nelle sedi europee per proporre degli strumenti innovativi che poi saranno necessari per risollevare le sorti del nostro Paese, delle regioni che sono più in difficoltà e per ridare vigore ai servizi e alle prestazioni pubbliche che purtroppo abbiamo visto anche rispetto all'autonomia differenziata abbiamo servizi di serie A e servizi di serie B. Quindi se va in questa direzione noi sosteniamo la proposta. Un minuto poco più per ultima domanda e ultima risposta. In questi cento giorni di governo avete fatto un'opposizione durissima, ma ci sono comunque dei temi su cui l'opposizione può tendere una mano al governo, trovare comunque una convergenza? Ma guardi, assolutamente è un tema centrale, oltre che quello della sanità, è il tema del lavoro nel nostro Paese. C'è stato un duro scontro con il governo rispetto al tema del reddito di cittadinanza, come se l'abolizione del reddito fosse poi la panacea di tutti i mali. In realtà abbiamo visto e vedremo, da quando il reddito non sarà più in vigore, che l'abolizione del reddito non risolverà il problema del lavoro. Noi su questo abbiamo le idee molto chiare, l'introduzione di un salario minimo e l'introduzione di strumenti che noi già abbiamo introdotto per stabilizzare i contratti di lavoro. Se ancora una volta il governo va in questa direzione, ma ne dubito, visti i primi passi, noi sosterremo l'azione di governo. Se invece andrà nella direzione della precarizzazione e della diminuzione della forza, del potere d'acquisto delle famiglie e quindi dei salari, noi continueremo a fare un'opposizione durissima. Grazie, grazie ancora una volta a Vittorio Baldino per essere stato con noi.